Una giosta dal valore unico e non solo perché straordinaria. Una giosta dalla quale passa anche la promozione della città di Arezzo e della sua giosta del Saracino. Tornata in città dopo essere stata benedetta da Papa Francesco e dopo il soggiorno nei Musei Vaticani, la lancia d'oro dedicata al Giubileo della Misericordia è tornata ad Arezzo. Una lancia ammirata da oltre 300.000 persone, una media di 5.000 visitatori al giorno che hanno sfilato davanti alla creazione del maestro Conti e dell'artista Ivan Taimer, conoscendo così il nome di Arezzo e la sua rievocazione giostresca. I numeri che ci sono stati forniti si parla di circa 5.000 presenze al giorno che sommate danno circa 300.000 presenze e quindi l'immagine di Arezzo e della giosta è stata veicolata in maniera molto importante. Penso che si comincia a vedere anche qualche riscontro perché vediamo che in questo periodo Arezzo è veramente molto frequentata da turisti e quindi contiamo di andare avanti in quella dinamica, in quella promozione che ci siamo prefissati proprio per far risalire la crina alla nostra Arezzo. In questa giornata è stata presentata anche varie iniziative, tra cui quella anche del manifesto a tiratura limitata così per tutti gli appassionati e poi c'è un'anticipazione per la giostra di settembre, Marconcini sarà in tribuna. Sì, Marconcini è il nostro portabandiera locale, ha onorato bene l'immagine d'Italia e di Arezzo perché è quinto al mondo nella sua disciplina e quindi crediamo che sia opportuno rendergli omaggio e rendergli onore invitandolo alla giostra. La locandina è un ricordo che gli appassionati, pochi perché saranno 200 le copie per entrambe le 100 per ogni tipo di locandina, potranno andare nelle case degli appassionati di giostra a un costo simbolico di 10 euro, il costo della stampa è molto importante perché sono delle stampe particolari e crediamo potrà essere un bel ricordo per i collezionisti e gli appassionati di giostra.